Amici di Showgear Network, benvenuti al nostro TG Mir in diretta dalla Fiera di Rimini, dove si sta svolgendo Music Inside Rimini, l'appuntamento dedicato alle tecnologie per lo spettacolo. Seguiteci perché fino a martedì ogni giorno vi racconteremo quello che accade qui, facendovi gustare l'atmosfera che si vive fra gli stand e nelle sale che ospitano i tanti eventi in programma. Per l'esattezza ci troviamo allo stand di Adcom, fantastica azienda bolognese specializzata nelle tecnologie video che ha allestito per noi questo bellissimo studio dal quale stiamo trasmettendo in diretta multi streaming. Tutto quello che vedete è infatti creato dalla piattaforma Elithium di Class X dedicata alla produzione televisiva in realtà aumentata e virtuale. Una meravigliosa tecnologia di altissimo livello professionale. Noi invece siamo reali e in carne e ossa. Cominciamo subito col dire che oggi pomeriggio aspettiamo tutti quelli che possono raggiungere alla MirTech Arena nel padiglione A3, dove abbiamo organizzato per voi Cesare Cremonini live inside the show. Un appuntamento per entrare nella fucina creativa e tecnica di uno dei tour più belli dello scorso anno. Potrete conoscere e ascoltare alcuni dei professionisti che hanno affiancato l'artista nella realizzazione dei suoi grandi concerti. Lo show designer Claudio Santucci di Gioforma, il responsabile audio Marco Monforte, il lighting designer Mamo Pozzoli e Riccardo Genovese, direttore del tour per Live Nation. Un'occasione unica. Fidatevi, non mancate! Stamattina abbiamo assistito all'apertura della fiera e abbiamo fatto una passeggiata per gli stand che vedono la partecipazione di circa 100 aziende del settore e che rappresentano moltissimi marchi di prestigio internazionale. L'aria che si respira è ovunque molto positiva e ottimistica, con il ritorno al dinamismo che caratterizzava gli anni della pre-pandemia. Alta è tornata adesso la domanda di prodotti da parte dei clienti e le aziende stanno rispondendo con grande slancio a questa rinascita. Tutto questo è chiaro anche nei padiglioni dedicati al Live U Play, bellissima iniziativa che rende operative molte delle tecnologie presentate agli stand. Qui il backstage diventa on stage perché il palco stesso e le strutture sono in esposizione. Tutte le tecnologie audio, video e luci sono infatti presenti in dimostrazione prova, accese e funzionanti. I massimi esperti e gli specialisti di prodotto sono a vostra disposizione per ogni domanda e curiosità. In questa edizione del 2023 troviamo due palchi. Il primo è il padiglione C1, presenta il Live System Contest dove è possibile ascoltare a rotazione 6 differenti sistemi audio i quali tramite un sistema di puntamento robotizzato suonano tutti dalla stessa posizione. Il secondo palco invece nel padiglione C3 propone la novità del Contest Mixer, cioè l'ascolto comparato di 6 mixer audio da un unico sistema API Point suon. Con la possibilità per i visitatori di accedere alla console proprio durante il mixing. Ma certamente nelle prossime edizioni di questo TG non mancheremo di raccontarvi maggiori dettagli sui live Uplay e darvi le nostre impressioni. Tornando agli appuntamenti di oggi, completiamo il quadro delle iniziative proposte che sono tutte molto interessanti. Oltre alla nostra show history sul live di Cremonini, alla MirTech Arena sarà possibile seguire la conferenza Digital and Interactive Media Design, la scena immateriale, per approfondire l'uso scenografico delle tecnologie video nelle opere teatrali. Nella Club Arena al padiglione A4 si parlerà invece delle questioni legate al lavoro nel mondo dello show business, con l'incontro, passione, non basta. A seguire Billboard Italia in conversation with Daniele Baldelli, una chiotterata con il DJ che ha segnato la nascita della Club Culture italiana. Insomma, tanta carne al fuoco che avremo modo di raccontarvi nelle prossime edizioni di questo TG Mir. Vi ricordiamo che anche noi di Show Gear Network vi aspettiamo al nostro stand 008 al padiglione A1, dove potrete iscrivervi alla nostra piattaforma con un eccezionale sconto fiera e soprattutto fare due chiacchiere con noi e bere un caffè insieme. Cari amici da Rimini, per adesso è tutto, vi diamo appuntamento a domani, continuate a seguirci, vi aspettiamo, Show Gear Network, a domani!